Ad un mese e mezzo dall'annuncio del progetto di recupero sono partiti i lavori di restauro della statua della Madonnina dei Cappuccini, divenuta il simbolo dei danni del terremoto del 9 novembre scorso che colpì la città di Pesaro. Lavori che sono promossi dal Lions Club Pesaro della Rovere col contributo di Renco S.p.A. e con l'intento di fare un dono alla comunità pesarese. Un'operazione affidata a Michele Pagani di Restauro e Etra che in questi giorni sta cadenzando gli interventi schivando i momenti di caldo primente incompatibile a restauri che sono aiutati da carrelli elevatori. L'intervento prevede prima il recupero del frammento di corona distaccata dal sisma che è stato conservato dai frati Cappuccini e poi la ricollocazione e consolidamento nella calotta cranica della statua. Compatibilmente alle condizioni meteo i lavori dovrebbero terminare già entro il mese di luglio per restituire alla città l'amata statua.